La Giunta regionale delle Marche ha approvato ieri, lunedì 11 maggio, una serie di protocolli per regolamentare le riaperture nei settori del turismo, del commercio e dei servizi sociosanitari. Il governatore Luca Ceriscioli ha annunciato in videoconferenza stampa, insieme al presidente dell'Anci Marche Maurizio Mangialardi e agli assessori Moreno Pieroni e Manuela Bora, la predisposizione da parte della Regione dei protocolli con le indicazioni per le diverse categorie economiche e sociali. I protocolli approvati riguardano sicurezza negli hotel, sicurezza nelle strutture extraalberghiere, campeggi e villaggi turistici, stabilimenti balneari, commercio su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, commercio in sede fissa, tatuatori, sgombero, cantine e solai, estetisti e parrucchieri. A breve saranno online le relative delibere. Provvedimenti di cui ieri pomeriggio hanno discusso anche con il Ministro per gli affari regionali Boccia per essere pronti per il 18 maggio, secondo un calendario, come ha precisato Ceriscioli, concordato con enti e associazioni, per dare il tempo ai titolari delle imprese di organizzarsi al meglio. L'assessore alle attività produttive Bora ha annunciato che dopo la positiva sperimentazione condotta nei negozi di parrucchieri e estetiste, sono completati anche in protocolli che interessano bar e ristoranti, mercati e negozi di abbigliamento, dove saranno obbligatorie le mascherine e la sanificazione dei camerini di prova. La Buora ha anche sottolineato il ruolo fondamentale del Servizio Salute della Regione per la stesura delle linee guida. Abbiamo lavorato in squadra, affermato invece Moreno Pieroni, aggiungendo, per quanto riguarda il turismo, per cui abbiamo definito e approvato quattro protocolli, abbiamo anche deciso di condividere queste linee guida con l'Emilia Romagna e l'Abruzzo, per avere un'uniformità di messaggi e condizioni lungo la costa del medio adriatico. Tutto è ruotato attorno alla scelta fondamentale di riaprire la stagione estiva dal 29 maggio prossimo. Pieroni ha anche annunciato che da lunedì 18 maggio partirà la campagna promozionale della destinazione Marche, mirata al turismo di prossimità, ma anche con misure di incentivo per i marchigiani all'estero e bonus vacanze. Per quanto riguarda invece la cultura, lo spettacolo, gli eventi e le attrazioni turistiche sono in fase di completamento i relativi protocolli.